Assessore Patanè, un progetto importante questo di oggi? Sì, oggi inizia il dibattito pubblico per la chiusura dell'anello ferroviario, che è uno dei progetti più importanti sul nodo ferroviario di Roma, che ha due obiettivi. Il primo è quello di ridistribuire meglio i mille treni che oggi viaggiano in città e il secondo è quello di servire di zone che non sono servite e farle raggiungere con itinerari tangenziali su ferro che oggi in città, proprio a causa della mancata chiusura, non sono disponibili. Quindi è un progetto atteso da tantissimi decenni e che oggi ha un inizio e del quale siamo molto soddisfatti. Ci sono delle criticità a riguardo? Sì, le criticità ci sono, ma il dibattito pubblico è proprio fatto perché tutti gli stakeholder, ma tutti i cittadini, le associazioni possano al suo interno dire la loro opinione. Noi per esempio vorremmo che ci fosse una linea circolare a tutti gli effetti senza rotture di carico e questo lo diremo all'interno del dibattito pubblico. L'importanza proprio dell'istituto del dibattito pubblico è proprio questa. Grazie Assessore. Grazie a voi.